Dei 19 studenti laureati che hanno partecipato alla prima stagione di SITUM, 17 hanno trovato un'occupazione e di questi 6 hanno iniziato a lavorare nelle imprese in cui hanno fatto il tirocinio. Sono i numeri della Scuola di Innovazione Tecnologica, Umanistica e Manageriale, progetto dell'Università Politecnica delle Marche insieme agli Atenei di Perugia e dell'Aquila per la creazione sul territorio di lavoro e imprenditorialità. I ragazzi che hanno partecipato alle prime due edizioni di SITUM hanno raccontato le loro esperienze nell'abbazia benedettina di Sant'Urbano ad Apiro.